ma quel cagnolino lì perché ogni tanto spunta fuori questo cagnolino dovrebbe essere penso anche lui un genietto un fantasmino perché ci aveva accompagnato all'inizio durante le spedizioni della prima banda del buco a lui rudi rudi seduttore una presenza simpatica mi è sembrato divertente inserirlo qua e là nei disegnetti che accompagnano la pubblicazione e ovviamente non poteva non finire anche nei tutorial che sono fatti in questa edizione del libro richiamano molto più da vicino quelli che siamo ormai abituati a vedere a vedere giornalmente su su internet si comunque il sistema in effetti dell'audiovisivo del tutorial era molto congeniale da gilardi ando gilardi era un cultore un promotore dell'audiovisivo del racconto per immagini passo passo dei procedimenti così creativi fotografici speriamo che che vi possa essere utile a vedere giornalmente Grazie a tutti